Oltre 100 partecipanti tra dirigenti e funzionari artigiani di tutta l'isola si sono riuniti il 5 e il 6 giugno a Sardara all'hotel Antiche Terme per la convention regionale di Confartigianato Sardegna. L'incontro ha visto la partecipazione di Marco Granelli, presidente nazionale dell'Associazione degli Artigiani, come ospite d'onore. Oggi parlare di artigianato significa parlare di attività imprenditoriali molto contemporanee. Io uso sempre questa parola per definire i nostri artigiani, sono oggi 4.0, quindi sono campioni di innovazione tecnologica, di tecnologia. Le discussioni si sono concentrate sulle sfide future del settore artigiano, tra cui la formazione, la gestione delle piccole e medie imprese Sard e l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo un atteggiamento consapevole, responsabile, individuiamo questa intelligenza artificiale come un mezzo, non con i fini, per cui a servizio dell'intelligenza artigiana per replicare le cose, ma la parte creativa è tutta nostra, la inventiamo noi, la facciamo noi. E' stato inoltre presentato il dossier Tendenze 2024 e Prospettive 2025 per la Sardegna, che analizza l'economia e la situazione delle circa 170.000 piccole e medie imprese Sarde, mettendo in luce il contributo delle oltre 34.000 imprese artigiane all'economia regionale. Torno a caso con un pieno di entusiasmo e di energia, perché i dati che ho anche visto sono dati che stanno a significare un aumento degli associati di compartigianato, il che vuol dire e gratifica tutti coloro che in compartigianato stanno prestando la loro opera e stanno prestando un servizio per fare in modo che le imprese siano al meglio rappresentate e che abbiano un supporto e una fiducia di chi li può sostenere in contesti che cambiano così radicalmente e così velocemente.